Buonasera, ben trovati a questo appuntamento speciale elezioni del nostro appuntamento politico settimanale, Dido. Questa sera con noi c'è Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta, già vice coordinatore vicario regionale del partito di Forza Italia. Parliamo di elezioni politiche, possiamo dare per scontata una sua candidatura e se sì in quale collegio, dove? Io sono a disposizione, mi sono dimesso con grande sacrificio a settembre dello scorso anno e mi sono messo a disposizione del centro-destra di Forza Italia per capire quale contributo avrei potuto dare, vedremo, la settimana prossima si chiudono i giochi, come si usa dire e quindi lo sapremo, il 31 mattina sapremo chi sarà il candidato, chi saranno i candidati di tutti i partiti. Lei si è dimesso da sindaco 5 mesi fa, 6 mesi fa, 6 sì, 6. Un po' meno ma insomma saranno 6 a marzo. Una data che le consentiva con sicurezza poi di poter essere candidata al Senato perché poi ci sono anche dei termini particolari dal punto di vista burocratico per chi è sindaco. Lei si era rimesso in gioco e aveva ottenuto il consenso dei cittadini di Pietrasanta e non era scontato perché era un ritorno dopo un interregno del PD, è stata una bella battaglia elettorale. Come ha motivato ai cittadini la decisione di mollare per mettersi a disposizione del partito? Sta qui secondo me il concetto proprio, non ho mollato assolutamente perché mi sto occupando di tutte le questioni che riguardano il mio territorio e la Versilia come prima, più di prima come dice la canzone, nel senso che ho dismesso i panni di amministratore locale perché era arrivato a un certo punto in cui tutto quello che noi facevamo ovviamente era quasi come essere vicino ad un soffitto quando non riesci più ad andare in alto perché ti opprime la cappa delle istituzioni superiori quale la Regione e quale il Governo nazionale. Per quanto riguarda la Regione, anche sul piano urbanistico, che è una cosa alla quale dobbiamo mettere mano anche come legge nazionale ovviamente sull'urbanistica, la legge del 42, quindi secondo me bisogna dargli una svecchiatina e il piano di indirizzo territoriale della Regione ha bloccato tutto il territorio regionale, con questo vestito nazionale della legge sul paesaggio voluto dalla sottosegretaria Buitoni, del Governo Renzi e poi Gentiloni e quindi condiviso dalla Regione Toscana hanno praticamente bloccato lo sviluppo urbanistico, ma parlo di ristrutturazione, non necessariamente di nuova edificazione. Abbiamo bloccato la viticoltura, abbiamo bloccato lo sviluppo degli stabilimenti balneari senza dargli una soluzione reale con la questione della Bolkestein e con la ristrutturazione ed edificazione, tutta la questione degli alberghi, fascia di 300 metri di inedificabilità, neanche con la questione della ristrutturazione impossibilitata, le cave di marmo, i tesori della Regione bloccati da una legge ideologizzata e pregnante di mancanza di sviluppo che ci ha bloccato. L'altra questione è tutta una serie di opere pubbliche e investimenti che sono mancati sul territorio, io mi sono mosso come un matto in questi due anni e mezzo per portare e cercare di portare risorse sul territorio comunale. Ma ultimamente i sindaci fanno più quello che altro, il fatto di stabilità. Ma perché questo? Perché manca a livello nazionale un occhio al territorio, a livello nazionale manca la possibilità di fare attività di territorio, di fare veramente gli interessi locali. La distanza che c'è sempre stata, nemmeno negli ultimi 20 anni, tra quello che è il livello parlamentare e le esigenze reali di tutti i giorni dei territori, a parte qualche mancetta qua e là che i vari parlamentari di collegio hanno distribuito in questi anni agli amici degli amici, per quanto riguarda la grande maggioranza di tutto il territorio della Toscana, ma dell'Italia ovviamente, la distanza fra Parlamento e Comune è enorme, il cittadino non sa nemmeno chi è il suo parlamentare di collegio, figuriamoci, conosce il sindaco ovviamente, allora noi dobbiamo riportare la roba lì, dobbiamo riportarla lì e quindi io non sono andato via, per me Pietrasanta prima di tutto, è uno slogan che ho usato in campagna elettorale e poi è rimasto appiccicato alla lista che si chiamava Massimo Mazzini. Ecco, poi c'è un slogan, al di là della sua candidatura, è partita la campagna elettorale, sarà una lunga corsa fino al 5 marzo, quali saranno secondo lei le parole chiave della campagna elettorale, sia a livello locale che a livello nazionale? Secondo me, allora intanto territorio è la prima parola, perché dobbiamo tornare a dialogare direttamente, il parlamentare che sarà eletto su ogni collegio ovviamente, dovrà essere un interlocutore costante per i prossimi 5 anni di mandato, dovrà incontrare i cittadini, dovrà farsi vedere, dovrà posizionare una sua segreteria sul territorio, dovrà dialogare con i problemi di tutti i giorni, dal problema della vecchietta della pensione sino alla problematica del sindaco della città in cui egli opera o nelle città in cui egli opera per quanto riguarda un rapporto diretto col governo, questo secondo me è la prima parola del territorio, la seconda parola è tasse, solo chi ha fatto l'amministratore locale può capire qual è la pressione che schiaccia oggi le imprese e le famiglie, allora non è possibile che noi paghiamo milioni di Euro di IMU, le faccio l'esempio di Pietrasanta, cittadini di Pietrasanta, le imprese di Pietrasanta pagano oltre 21 milioni di Euro all'anno di IMU, ebbene 8 milioni di questi noi non li vediamo neanche, 6 milioni vanno al cosiddetto fondo di solidarietà comunale, quando dice solidarietà si pensa a qualcosa che va ai poveri, no, un pezzettino del limu di Pietrasanta va anche a Firenze, quindi è di povero c'ha poco, 2 milioni dei fabbricati, pagati sui fabbricati quindi le imprese, non toccano neanche terra, nel senso che con l'F24 vanno direttamente nelle casse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma si può continuare in questo modo? È possibile ancora che una così grande percentuale su 22 milioni, 8 milioni, quindi quasi il 30% del gettito, passi neanche di mano, transiti direttamente e se ne vada, quindi tasse, ovviamente l'altra questione delle tasse è legata alla tassa principale che è l'IRPEF e l'IRES e l'IRAP, tre elementi, io da imprenditore ma da amministratore locale, altra regola, guarda di avere un mestiere prima di fare politica, perché la politica non è un mestiere, me lo pongo questo problema, se noi sgraviamo le imprese, le imprese non è che parlo della Fiat, parlo dell'impresetta, del pittore, dell'idraulico, dell'elettricista, del falegname, del meccanico, da 1 a 500 a 1.000 dipendenti, se io gli tolgo la pressione fiscale, questo torna a fare investimenti, quindi territorio, tasse, la terza questione che è altrettanto importante è sociale solidarietà, lì è un mondo perché oggi abbiamo delle contraddizioni in termini enormi, perché noi come comuni e territorio facciamo interventi importanti per aiutare le famiglie che hanno bisogno e purtroppo crescono in maniera vertiginosa, siamo quasi a 5 milioni di poveri in Italia, poveri, 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 gente che non mette insieme il pranzo con la cena e su cosa gravano queste persone? Sul territorio, vedi che ritorna la parola territorio, comuni, investimento, dobbiamo investire in quella direzione, è chiaro che se aiutiamo le imprese miglioriamo l'occupazione, quindi diminuiamo la disoccupazione e miglioriamo la vita delle persone, sociale significa solidarietà, significa nuovi interventi abitativi, sono anni che non facciamo case popolari, l'ultimo fu Fanfani, ma mi sembra che io e lei non eravamo ancora nati e di conseguenza da lì bisogna ripartire, le contraddizioni sono che la Prefettura di Lucca e il governo italiano nel nostro territorio provinciale ha messo un bando per 43 milioni di Euro per l'accoglienza degli immigrati. Sugli immigrati le voglio fare una domanda e le chiedo… Io 43 milioni ci faccio mille abitazioni, oggi una casa si costruisce dai 1.300 a 1.500 Euro al metro quadro, una bella abitazione, con 43 milioni ce ne faccio mille di abitazioni e risolvo un problema ai residenti, non necessariamente italiani, per me non fanno differenza, italiani, marocchini, magrebini, polacchi, chi ha bisogno? Albanesi, rumeni, italiani ovviamente. A questo proposito Capriglia, che lei conosce bene, frazione di Pietrasanta, ha vissuto in questi giorni un momento di tensione, lei sulla politica dell'immigrazione è sempre stato molto fermo, ma lì c'è stata una parte della popolazione che si è rivoltata contro il proprietario di una struttura che doveva accogliere dei richiedenti asilo, che pensa di quanto… Perché lì entra in gioco la quarta parola, che è competenza. Negli altri comuni però non è successo da nessuna parte? Non è successo da nessuna parte, in Toscana su 270 comuni, 79 comuni circa, ce ne sono quasi 50, 60 che fanno accoglienze e il resto no, solo che guardano Mallegni perché Mallegni è di Forza Italia, Pietrasanta amministrata dal centro-destra, possiamo parlare anche di un altro comune del territorio della regione Toscana dove nessuno manda immigrati, parliamo di noi, non ci sono problemi, competenza, non è possibile in una realtà come quella di Pietrasanta che vive sul turismo, vive sullo sviluppo, Lucca, uguale, parallelo, ma è possibile che a fianco allo stadio ci sia una tendopoli con 200 immigrati clandestini dentro? Perché si chiamano così, non è che si chiamano richiedenti asilo, sono clandestini perché lo status di rifugiato non gli arriverà mai. Capriglia, fra Capriglia e Capezzano saranno 400 circa, ce ne mettiamo una ventina, poi abbiamo già ad occhiato, dicono coloro i quali hanno fatto il bando, la vecchia casa di riposo ce ne sono stati 40, si fa 60, che facciamo? 25-30% della popolazione, costruiamo una nuova comunità? Possiamo fare questo? Mettiamo dei disgraziati che hanno bisogno di spostarsi, ma lei se lo immagina uno che arriva dal Senegal piuttosto che dalla Nigeria, piuttosto che dalla Libia, lo piazziamo a Capriglia che per andare a Pietrasanta c'è una salita e una discesa, secondo me una volta scesi non tornano più. Capisco, capisco. E poi cosa fanno? Di che mangiano? 2,50 euro al giorno? Che ci fanno? Non c'è un supermercato, non c'è un negozio, c'è non andare giù, cosa fanno allora? Si organizzano, come dice Berlusconi e dice una cosa saggia, è normale, è vera, parlando con i carabinieri per quanto riguarda tutti i reati che si verificano in Italia, 7500 reati al giorno, quando ci sono le infrazioni negli appartamenti, la prima cosa che viene svaligiata sa qual è? Il frigorifero, perché questi non hanno neanche da mangiare e poi quel centro di accoglienza è una casa adattata tipo lager, era più grande la cella mia a San Giorgio quando sono stato arrestato. Mi tocca un punto che tutte le volte che facciamo una chiacchierata come a Legni dobbiamo toccare, abbiamo veramente pochissimo tempo, però lei è stato in carcere, è stato arrestato per una vicenda giudiziale dalla quale è stato poi ritenuto assolutamente riconosciuto innocente, è stato rieletto sindaco, quanto l'ha cambiata questa esperienza, questa voglia di mettersi sempre in gioco? Vede, è stata un'esperienza che io non auguro a nessuno, non auguro neanche al peggior nemico, nemici non ne ho, ma insomma peggior avversario, perché vedersi togliere la libertà, scomparire dalla tua famiglia, non poter parlare con tuo figlio per un mese, non poter vedere tua moglie, i figli di tua moglie, i miei genitori, essere considerato, perché le giornalate si sono sprecate, tutte le televisioni, anche la vostra, in funzione delle dichiarazioni che uscivano dalla procura, dipingevano Massimo Mallegni come un mascalzone, un delinquente, un oltraggio all'onestà. Sì, perché poi anche se uno ci mette un condizionale poi alla fine… Esatto, dovrebbe, forse, sarà, non sarei, vedremo cosa… esatto, beh, questo ti cambia per forza la vita, quindi devi aver pazienza, metterti lì, studiare le carte del processo, una delle cose che dovremo fare, prima andremo al governo come centrodestra, dobbiamo invertire la logica dell'onere della prova, dici che ho fatto questo, me lo provi, non è che devo essere io che ti dico che non l'ho fatto e ti provo il contrario, la stessa cosa vale per il penale, vale per l'amministrativo, vale per il contabile, compresa la questione di Equitalia o dell'Agenzia delle Entrate, che ti chiamano, ti fanno il conto e ti devi dimostrare che non è vero, no signori, non funziona più così e questo glielo dico chiaro a questi signori che oggi fanno questo tipo di attività, quando arriverà il governo di centrodestra sarete voi che dovrete dimostrare al cittadino se veramente ha evaso le tasse come le ha evase, no il cittadino che si dovrà giustificare e questa è l'altra questione legata alla questione delle tasse. Purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione, è sempre molto piacevole, grazie per essere stato ospite alle elezioni, allora vedremo se ci sarà questa candidatura. Le do questo dato, le candidature verranno fuori il 31 di gennaio e noi saremo qua, ne riparleremo. Grazie a Mallegni, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata. Grazie.